Sì, sì, non fa niente, tanto dobbiamo guardare loro Scusate Top tech blin, sai che vuol dire tech blin? Un casino, suppongo, un casino tecnologico Eh, perché fa parte un po' del nostro vocabolario strano Perché noi abbiamo i goblin, poi con blin si creano dei neologismi E tu devi associare una cosa, tipo tech Blin vuol dire che non sai fare quella cosa, no? Fantastico Ok, io poi sono peggio di te, quindi Ma questa è una lingua cerbero? Sì È come Tolkien, quindi stai proprio, state inventando una nuova lingua Esatto, esatto, esatto Allora, Mara tra i due è quello che ne sa più di tecnologia, esatto Pensa come stiamo messi Perché io sono terribile su quello Senti, innanzitutto come stai? Come stai vivendo questo momento? Ma, stiamo bene, io e mio marito stiamo bene Bene, ci coccoliamo, ci parliamo, ci baciamo E ci cuciniamo, ci salutiamo, ci impauriamo insieme E quindi ho la fortuna di stare con Francesca, Davide, come sempre Nella mia vita, da quando conosco Francesca E soprattutto adesso sono fortunato Sto bene, stanno bene i miei cari Siamo così, un po' tutti stravolti come tutti noi Per quanto riguarda il tuo lavoro È un dramma, riesci comunque a fare qualcosa? Il cosiddetto smart working Per quanto riguarda il mio lavoro Il dramma è che mi sento in colpa Perché sta andando, diciamo che Rispetto ad altre situazioni Va abbastanza bene Non solo perché lo smart working Lo facciamo da Lo faccio da una vita E con Bad Taste È alla base della nostra essenza È alla base dell'essenza di Bad Taste Se ci pensi Perché è proprio la redazione cloud Così cerco di essere up to date Come termini È proprio questa redazione che sta nell'etere Perché Bedeschi sta a Iesi Vicino a Iesi Berni sta a Milano Io e Gabriele siamo a Roma Mirko sta a Napoli Quindi Monteduro sta in Apulia Quindi proprio, cioè Allora, con questo ci salviamo E poi E poi il messaggero mi sta facendo fare una rubrichetta quasi quotidiana Sulle cose che voglio segnalare Che è online Quindi economicamente Spieghi, spieghi Mi hanno chiesto Il mio adorabile caporedattore Andrea Scarpa Mi ha chiesto di segnalare Quello che mi piace In linea con La linea del giornale Che c'è In tv Ma in tv oggi riduttivo Sulle piattaforme Online Ovunque A carattere cinematografico Là mi sta molto divertendo Intanto mi permette di lavorare Che è fondamentale E poi mi permette di Tenermi attivo E di vedere Che cosa sta accadendo Certo Ognuno come sta reagendo Dai siparietti Cioè Mel Brooks Con il figlio O i siparietti Che fanno alcuni A Hollywood In questo momento A delle belle iniziative Come quella di Alice nella città O le cose bellissime Che sta facendo il centro sperimentale Lo sai che il centro sperimentale Sta mettendo online Queste lezioni di cinema Che ti consiglio L'hai vista? L'ho segnalato su Instagram Sì Hanno fatto una bella iniziativa Devi vedere Sargio Leone Sargio Leone è molto bella Perché Sargio Leone Poi se vuoi ne parliamo Perché è scioccante Perché si collega a Scorsese Dove lo possiamo Diciamolo anche al pubblico Dove si possono trovare? Su YouTube Sul canale YouTube Del centro sperimentale CSC In acronimo Centro sperimentale di cinematografia Che Questa piacerà al Marra Storico Ovviamente È questa scuola nazionale di cinema Che noi creiamo Che noi creiamo In piano fascismo A due passi Da cinecittà Che è La città del cinema Creata appunto In piano fascismo Perché il cinema È diventato Cinema di propaganda Certo Ne abbiamo parlato Quando tu mi invitasti Gentilmente Già la prima volta Quando già il mondo Si è reso conto Che quest'arte È Un'arte di seduzione di massa E può essere declinata Anche in chiave Di propaganda Ma soprattutto È un'industria È un'industria Che deve creare Quindi che cosa Maestranze Le maestranze come si possono creare Con l'educazione E l'educazione Cosa ci porta Alla scuola E quindi bisogna fare una scuola E il centro sperimentale È questa scuola di cinema nazionale La più prestigiosa Del nostro paese Che sta davanti A cinecittà Sulla nostra Per me Marra Via Tuscolana Strada Importante di Roma Perfetto Perfetto Allora questo è il primo consiglio Allora Magari non tutti hanno visto La puntata precedente In cui Insomma Sei stato presente Fisicamente al Cerbero Un breve Una breve presentazione Cosa fai nella vita Da quanto tempo Solo un idraulico Ok Il che non sarebbe male Dal punto di vista sessuale Ho sempre detto Che Sono un critico cinematografico Che si considera Come un idraulico Con meno occasioni Di sesso occasionale Questa è una delle mie Una delle mie Tue battute preferite Sì È proprio Sembra di Filippo Giardina Un po' Uno stand up comedian Anzi scusami Di Montanini Di Montanini Quando fa l'elenco Degli artisti Degli artisti La scopo classifica Degli artisti È bellissimo Fa al primo posto C'è l'attore di cinema Poi eh Tipo il poeta E poi ci sono i comici Scopo meno di un poeta Che poi non è vero Che poi non è vero Perché questo subito Ci porta a Woody Allen Io e Davide Poi se cominciamo Non fermiamo più I Nio Enni Che ricorda Carol Kane Che abbiamo visto Vecchia Nei fratelli sisters Così proprio Impazziamo del tutto Alla fine Accogliere a casa I due fratelloni Joaquin Phoenix E John C. Reilly Alla fine Il bellissimo film Di Jacques Codiac Ma Carol Kane Giovane Va da Woody Allen In un suo flashback Di una sua storia d'amore Che si sta per esibire Come comedian E lui se la rimorchia Alla grande Perché E lei fa la famosissima Battuta Che oggi non si può dire Perché Mr. Allen È in grossa difficoltà No Invece noi la vogliamo dire Perché lo amiamo Lo ameremo sempre Lei dice Amo essere ridotta A uno stereotipo Culturale E Magnifica Come era magnifica Quella di Manhattan Ma come hai superato I bitelli Sul piano culturale Ovviamente Lui arrabbiatissimo Deve andare a parlare Con un insegnante Amico suo È un insegnante Quindi lui Gli imbocca All'improvviso In classe E la prima cosa Che dice lui È Devono litigare Su Diane Keaton Quindi già ci piace Perché uno Woody Allen Stava con Diane Keaton Poi è arrivato lui E Gliel'ha portata via Allora Woody Allen Arrabbiato Va là Entra in classe E lui fa Ma come hai fatto A superare i bitelli Sul piano culturale Ovviamente Vabbè Potremmo Potremmo dire Non lo so Una live di 5 ore Solo sollecitazioni Di Woody Allen Ma in quella In quella Peraltro possiamo parlare Di Woody Allen Se vuoi Perché sta per uscire Anche da noi Anzi solo da noi Praticamente La sua ultima Autobiografia Ah ecco Giusto Parliamone Perché la sorella Di Sgarbi Ha fatto una cosa Ottima per noi Ha fatto una cosa Eccezionale Elisabetta Sgarbi E In quella In quella Conversazione Con Murphy Con l'attore Murphy Mi ricordo il suo nome Di battesimo Un attore interessante Un attore con gli occhiali Che di solito C'era sempre Comunque anche L'intellettuale progressista Nei film È un bellissimo attore Che non ha lavorato tantissimo E Allora C'è anche quella battuta famosissima Ma insomma Ma tu ti credi di essere Dio Ma basta A qualche modello Dovrò pure ispirarmi In un solo dialogo Capite Chi è Woody Allen Lo diciamo ai giovani Che Oggi Lo sentono citare Per queste cose Lo sentono citare Perché Timo Di Scialamè Che magari I giovani amano No dice Non voglio più Lavorare con lui Abbiamo citato In un dialogo Di un film Che si intitola Manhattan Ci sono due battute Tra le più importanti Della strada del cinema In un Uno Dialogo È vero Allora Facciamo così Ulteriore Compito a casa Perché tu devi sapere Fra che questi Sono i miei alunni Io ogni volta Gli do compiti Che puntualmente Non fanno Quindi sono veri e propri alunni Vedere Manhattan Assolutamente E io e Annie Che sono un po' I film più noti Di Allen Poi in realtà Bisognerebbe approfondire Anche quelli Meno Noti Diciamo così Almeno oggi Quelli meno ricordati Per esempio Secondo me Magnifico È Anna Le sue sorelle È veramente Un qualcosa di incredibile Dal punto di vista Della sceneggiatura Come Come torna Tutto Sì Anche Questo consiglio Recuperate Il libro appunto Che verrà pubblicato Dalla casa editrice Della sorella di Sgarbi Perché Praticamente Sì Solo in Italia Esce se non sbaglio Perché in America Non uscirà No In America Non esce Per l'ennesima Protesta Nei confronti Di Woody Allen Da parte di Persone Che 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 Tornano a Indignarsi Per qualcosa Che è accaduto Tanto tempo fa Ma dal quale Lui è stato Prosciolto A livello legale Ed è un po' Veramente Questa storia di Allen È In questo momento Così delicato Nel rapporto Comodonna Legato al movimento Me Too È un po' È la storia Più triste Secondo me Perché Laddove Polanski Ci mette più in difficoltà Perché emergono cose Pessime Nuove Che ha fatto Allen è inchiodato A questa cosa Che io vissi Peraltro Davide Perché sono molto Più vecchio Di te La vissi in diretta Guardate Io me lo ricordo Io sono vecchio Io c'ero E guardate Che quando accadde Io C'erano i servizi Sui telegiornali Del prime time Su questo casino Che stava succedendo Con Mia Farro Lui stava rompendo Questa storia Molto lunga E molto anche Mainstream Lei era diventata La musa del suo cinema Come era successo Già prima A Diane Keaton E Ci fu questo divorzio Pesantissimo Nel momento in cui Lui stava facendo Questo film Molto importante Mariti e mogli Sui divorzio Che tra l'altro Esatto Anche autobiografico Cioè Da quello che so io Alcune scene All'interno del film Erano in un certo senso Reali Cioè rappresentavano Quella condizione Della coppia Esatto Esatto Lei Lei lo portò alla fine Mia Farro Lo portò alla fine Peraltro recitando benissimo Nel momento E anche lui Era lì C'era Sidney Pollack Sidney Pollack Come no Un bellissimo ruolo Un ruolo d'attore Grande regista Di Regioni del Condor E E vabbè Che ti devo dire Davide Però questa è l'ultima autobiografia Se vuoi ne parliamo Perché c'è subito un punto Su Timothee Chalamet Che sta facendo Beh parliamone Parliamone Allora Per chi si fosse collegato adesso Stiamo parlando dell'autobiografia Di Allen Che non è stata pubblicata Praticamente in nessun paese Con eccezione dell'Italia Pubblicata Come si chiama la casa editrice? Non me lo ricordo L'isola No La nave di Teseo può essere? Bravo La nave di Teseo Arriverà a Cartacea Arriverà a Cartacea Puoi dirlo oggi Sì Vabbè In teoria Ai primi di aprile Doveva Dovrebbe L'uscita Canonica Era Mi pare 9 aprile Ma questo era stato stabilito Prima che accadesse il casino Che stiamo tutti vivendo E si può anche comprare su Kindle Visto che Per rimanere in tema tecnologico Là lo trovate in originale E lo leggete in originale Perfetto Perfetto Allora A proposito Visto che abbiamo aperto sto tema Poi magari torniamo al discorso storia del cinema Perché mi interessa il tuo punto di vista Tu mi hai citato Polanski E Allen Io aggiungerei Anche Depp È un periodo particolare Per Il cinema Ma in realtà Il cinema rappresenta un po' la società Quindi questi tre uomini Che stanno subendo Un attacco mediatico Poi Depp Fortunatamente Si sta Tirando su Perché stanno uscendo cose Difficilmente equivocabili A suo favore Però Come vedi questa situazione Cioè non ti sembra che al di là Certo come dicevi tu Delle colpe individuali Polanski eccetera Però Non pensi che questo Politicamente corretto Da un certo punto di vista Anche Una giusta ricerca di parità Di Etica Stia un po' Distruggendo Anche l'arte Perché Io ad esempio ho fatto un video su Polanski Ho detto Non voglio giudicare L'uomo Polanski Perché Forse non sapremo mai Come sono andate realmente le cose Però Se il film È un bel film E viene candidato È giusto che vinca O Fai una scelta E decidi proprio di non Farlo partecipare Alle premiazioni Oppure Se merita Lo fai vincere Tu che ne pensi? Discorso molto complesso Il Va distinto Bisogna fare delle distinzioni Quando tu vedi l'opera E inserisci questo discorso All'interno della visione dell'opera In un certo senso Lo dovresti mettere da parte Mi spiego meglio È il dibattito Davide Caro Che c'è stato Tra Alberto Barbera E Lucrezia Martel In occasione Dell'ultima mostra Del cinema di Venezia In cui Lucrezia Martel Presidente di giuria Fa questa gaffo Comunque mette in difficoltà Il festival Barbera All'inizio proprio È stato bellissimo È stato un momento Molto importante Dove dice Certo che io sono un imbarazzo Di fronte alla presenza In concorso Del film di Roma Polanski Apri di cielo Luca Barbareschi Giustamente dal suo punto di vista Davide Dice Ma io che devo fare Devo ritirare il film È successo un casino pazzesco In un certo senso Anche un autogol Per la Martel A quel punto Barbera Dice quello che Stavi dicendo te Cioè la distinzione Tra L'essere umano E l'opera E allora Che non dobbiamo più vedere I quadri di Caravaggio Visto che non era proprio Uno stinco di santo Allora che dobbiamo fare Con 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 altri artisti Quanto meno controversi Come Celine Come Ezra Pound Che cosa dobbiamo fare Allora Esatto E allora Questo è un discorso Davide Che io posso accettare Dicendoti Ma certo Nel momento in cui Vedo l'opera Non sto vedendo l'uomo Sto vedendo l'opera Però io Da un altro punto di vista E ne ho parlato a lungo Con Terry Gilliam Ex-Montivision Litigando un po' con lui Perché anche lui È entrato nel ciclone Del Me Too Un anno e mezzo fa Per le dichiarazioni Che rilasciò Sì passò un'estate Abbastanza travagliata Beh la senilità Fa brutti scherzi No ma soprattutto No scherzo Scherzo Allora lui era Lui era anche È sempre lucidissimo Sì perché poi lucidamente Mi dite anche ragione Quando discutemmo Di questo fatto Nel senso anche lui Era entrato nell'occhio Del ciclone Per delle dichiarazioni Della serie Basta che palle La sto molto molto Semplificando Però proprio così Non ci toccheremo più Così Diventeremo schiavi Politicamente corretto Uomo donna Già da apato Gli diede dell'idiota Ellen Birkin Disse che Vi consiglio Di non andare In un ascensore Da soli con lui Quindi evidentemente Ellen Birkin Fece un'allusione A qualcosa che accadde A lei A Terry Gilliam Allora Io mi trovavo con lui Proprio In Italia Dovevamo fare una cosa Insieme In Umbria E passammo Delle bellissime giornate Vabbè Insomma È un artista Che io amo molto E parlamo anche di questo Lui peraltro È un ex Sessantottino Nel senso Quello del termine Questo è un signore Che Prima di arrivare A Londra E fondare Monty Python Davide Lui era presente Al discorso Di Martin Luther King Io ho un sogno Cioè lui era presente Davide Lui era presente Quindi capito Cose che a noi Ci fanno accapponnare la pelle Adesso magari I tuoi giovani ascoltatori Ecco Altro compito da dare Che non faranno Giustamente Perché Si devono ribellare Però Ricordate quella marcia Ricordate Forse Forse saprete Di quella famosa frase Di quel signore di colore Che era in quel momento Un leader politico Che disse Io ho un sogno Il sogno che Un bambino bianco Un bambino nero Un giorno In questo paese Possano giocare insieme E crescere insieme Io ho un sogno Avere un sogno Io ho un sogno È uno dei momenti Più importanti Di un secolo Che mi ha dato I Natali Che è il novecento Terry Gilliam Era proprio lì Cioè Era presente Cazzo Io se penso a queste cose Veramente mi vengono i brividi Perché è una Io ci sono cresciuto Capisci Io ci sono proprio cresciuto Con Per tornare a bomba Allora parlando con lui Si parla di politica Davide Allora se tu invece Affronti il discorso Da un puntista politico Io sono totalmente D'accordo con le signore Anche nella loro durezza Mi spiego meglio Però lo escludi prima Allora Davide Questa è politica Sì ma se è politica La politica È una cosa seria Se loro in questo momento Vogliono utilizzare questa cosa Per avere contratti maggiori Per avere Per subire meno Prevaricazioni Per fare uno strappo politico Oggi Dici il fine Il fine giustifica i mezzi Ti dico che la rivoluzione Non si può fare Senza rompere qualche bicchiere Come diceva uno Che si chiamava Castro Fidel Ti dico che La guerra Non si fa Senza uccidere qualcuno Ti dico che Ci possono essere Dei danni collaterali Ma te lo dico Amando molto Woody Allen Amando molto Quest'uomo Che peraltro Poi Come ho detto prima Mi sembra in questo momento Molto difficile È pieno di colpe Di noi maschi schifosi A partire Da un certo signore Che è stato condannato Definitivamente Qualche giorno Che si chiama Harvey Weinstein Che tra l'altro Ha pure il coronavirus Che tra l'altro Ha pure il coronavirus Ti dico che Ti dico che Questi sono appuntamenti storici Davide Che un uomo Un maschio Non può commentare Con superficialità Non può mettersi nei panni Di evidentemente Allora Una donna Che Giustamente In questo momento Vuole sfruttare Questa cosa Per cambiare Delle regole A Hollywood Ti dico Semplicemente Che questo sta accadendo E ti dico che Allora Quando ne parlavo con Gilliam Che gli dicevo Senti Scusami Ma tu hai fatto politica Tu da giovane hai fatto politica Facevi le proteste Contro la guerra del Vietnam Come può Un animale politico Come te Non capire Quello che sta accadendo Che questi signori Si sono rotte le ovaie E stanno utilizzando Questa cosa Per ribaltare O comunque Cambiare i rapporti Allora Oggi Mi sembra Davide Che le nuove generazioni Abbiano molto paura Della parola politica Io quando facevo Le prime video recensioni Su BetTaste Non potevo quasi usarla Che Perché c'era Perché Perché Se è il solito Vecchio Sinistro orso O mio dio La politica In realtà È una bellissima parola Che contiene in sé Il senso di cittadinanza Dell'essere cittadini Perché viene confusa Viene confusa con Partito Viene confusa col fatto che La politica italiana Fa schifo Da circa 25 anni Anche lì Io c'ero Anche prima No Soprattutto negli ultimi 25 anni Perché Con la fine Della prima repubblica Purtroppo Ci aspettavamo Che cambiasse qualcosa Mi sto riferendo Alla metà degli anni 90 E poi È stato un delirio Secondo me Un declino del paese Io dico che la tua generazione È cresciuta lì Io dico che i tuoi ascoltatori Anzi Tu sei magari un po' più vecchio Io ti dico che Certi tuoi ascoltatori Sono proprio cresciuti In questa schifosa Italia Degli ultimi 25 anni E quindi La politica Non posso sentire questa parola In realtà è una parola bellissima È una parola che riguarda I rapporti tra me e te Davide I rapporti tra me e Francesca I rapporti In poche parole All'interno di una società È buffo È anche un po' grottesco Dirlo oggi Che io mi affaccio adesso Dalla mia finestra Non c'è nessuno E non c'è la polis E non c'è la cittadinanza Però In poche parole Per fare meno il trombone Di quello che sono Dicevo a Gilliam Scusami Terry Ma le signore Si sono rotte le ovaie Stanno sfruttando questa occasione Tu al posto loro Che avresti fatto E allora Mi permetto di fare il trombone Perché ne ho parlato Con tanti amici Davide Come te Sono anni che ne parliamo Perché questa cosa è esplosa Ormai Ragazzi Quasi tre anni fa Poi ti faccio un'obiezione Io ti dico che I cristiani Che cosa fecero Quando cominciarono A ribellarsi Nei confronti di chi Li perseguitava E li uccideva Abbiamo citato Martin Luther King Sappiamo benissimo Che Malcolm X Era meno pacifista Di Martin Luther King Infatti i due avevano Una Anche una Una leggera rivalità O comunque C'era un dibattito Una dialettica In poche parole Vi voglio dire Che ogni Segmento sociale Che nella storia dell'umanità Si è trovata In una posizione Prevaricata Di subordinazione Subordinazione Poi se non lo volete accettare Che noi maschi Abbiamo subordinato le donne Sono problemi vostri Vedete un po' troppi film Di Paolo Sorrentino Forse In realtà Noi che crediamo Che invece Questo rapporto di forza Ci sia sempre stato In tutti i segmenti Della società Ok In tutti i segmenti Della società Pensiamo che Un riequilibrio Di queste forze Possa passare anche Attraverso la violenza Va benissimo Allora ti interrompo Un attimo qua Per farti un'obiezione Allora intanto Tu hai citato Malcolm X E Martin Luther King Io mi collego Ad un parallelo cinematografico Ovvero X-Men Di Singer Secondo me C'è un po' Questa dicotomia No? Tra Xavier e Magneto Secondo me Rappresentano un po' Questi due personaggi Scusa Ma perché stai citando Qualcosa Che non è cinema? Ah no scusa Stavo facendo lo spiritoso C'è anche in Black Panther Ancora più letterale Perché là Sono poco Infatti è troppo Di dascale Che non mi piace tanto Però 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 Perché non Però Perché non abbiamo La pelle nera Davide mio Scusa Non tocchiamo pure Non tocchiamo pure quel punto Perché sennò è la fine Ripartiamo sul discorso Non dobbiamo parlare di cinema Perché stai parlando di qualcosa Che non è cinema? Perché il cinema è politica Ma tu stai parlando di qualcosa Che non è cinema Se diamo Se diamo ragione Al dio del cinema Martin Scorsese Allora Allora La mia obiezione è questa Come in quel film Magneto effettivamente Voleva fare una rivoluzione Perché Giustamente I mutanti Erano stati discriminati Dagli umani Quindi a un certo punto Come tu dicevi Le donne si sono rotte le ovaie I mutanti Si erano rotti Insomma I coglioni E quindi Magneto Dice adesso basta Mutati I coglioni mutanti Esatto I coglioni mutanti Sono iper coglioni I coglioni mutanti E quindi Magneto A un certo punto Dice Basta Mo va Faccio vedere io E Xavier Mutante Anche lui Si oppone Cercando Una Insomma Un confronto Più civile Con gli umani Una dialettica Anche con Lo sappiamo bene La scuola dei giovani talenti Eccetera Il parallelo Nella nostra contemporaneità È questo Sono perfettamente D'accordo con te Francesco Quando dici che Le donne Hanno sicuramente Per via del trascorso storico Ancora Molti punti Da Raggiungere Per ottenere la parità Sono d'accordo con te Quando dici che È Ammissibile Anche rompere Qualche bicchiere Però la mia obiezione è Se Non ci opponiamo Noi Dall'altra barricata Non noi uomini Ma noi che non la pensiamo così A questi atti Di rottura dei bicchieri Non c'è il pericolo Che Si ripetano Gli errori Del patriarcato No Secondo me no Perché Ma Ma per una questione Come dirti Quasi statistica Nel senso che io Non ho Io penso che La società Possa assorbire Una Rivoluzione Poi forse È una parola Un po' troppo Io direi Un 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 Contrattacco Mi piace più usare Questo termine Sportivo Paramilitare Questo è un Contrattacco Perché Se ci fosse La vera rivoluzione Quella è quella Che vorrei io Io vorrei mettere Loro Al posto nostro In tutti i vertici Tutti I vertici Vabbè ma questo Perché io sono Lo sai Ho capito Questa è la mia Fantasia erotica Sei un po' La città delle donne Di Fellini Un po' Senti io ho Mio marito Che mi prende per il culo Costantemente Per questo mio Seudo femminismo Abbastanza ignobile Nel senso dire Di sostituire Gli uomini con le donne Non è femminismo Cioè non è parità Come no Come no Il mio sogno Il mio sogno è l'aremma Al contrario Il mio sogno è l'aremma Al contrario Masculiani al contrario Dove io sono Un oggetto sessuale Di circa 25 donne Vabbè finché È una cosa erotica Sono d'accordo Ma da un punto di vista Paritario Io voglio che loro No io voglio che loro Governino il mondo Sì ma loro Ognuno ha le sue Ma loro Loro intese come donne Non è che in quanto donne Sono più brave degli uomini Davide abbi pazienza Ognuno ha le sue tare mentali La mia è che loro Sono superiori a noi E ognuno è convinto Delle sue Allora sei un suprematista Certo E allora sei un sessista Io sono convinto Io sono convinto Che le abbiamo bastonate Per secoli Perché avevamo paura Del loro potere Sono convinto Quindi tu sei convinto Della superiorità femminile Assolutamente sì Da che punto di vista Tutti Tutti Sono molto Sono molto più intelligenti Sono molto più responsabili Sono molto più Sveglie Sono molto più sensibili Mi sembra un po' Una stronzata Dai Un po' Una generale Ma è la mia Amarra Ognuno ha le sue Ma che non conoscevi Questo mio lato bagato Un po' sì Però pensavo Che trollassi Ma che trollassi Ma io non trollo mai E quello che non capiscono Io sono Io sono un coglione Disparatamente sincero Cioè Questa me l'ha detta Anche un mio ex studente Di scuola Che quando non capivo Ancora Davide Che cazzo volesse dire Però scusa Allora Allora Ti faccio Allora Ti faccio degli esempi Però No Un attimo Ti voglio fare degli esempi Ti voglio fare degli esempi Primo Sennò poi qui Infiliamo più Sì Allora ripeto Sono d'accordo Che magari per raggiungere Certi posti di rilievo Bisogna fare anche Un certo tipo di rivoluzione Sono d'accordo Che si può uccidere Forse anche il mostro Metaforicamente Che sia Weinstein Eccetera Perché serve un simbolo Va bene Tutto quello che vuoi Il fine può giustificare i mezzi Machiavellianicamente Ok Però Queste azioni Secondo me Che già stanno avvenendo E già sono avvenute Hanno portato Alcuni Elementi Molto Molto Negativi No Non alcuni No No Allora aspetta Fammi finire Fammi finire Prendi il caso di Johnny Depp Un uomo Che per la sola parola Di una donna È stato Crucifisso Dipinto come Una merda E la stessa donna Amber Heard In una registrazione Ha detto a lui Tanto Nessuno Ti crederà Perché sei un uomo E addirittura Puntando Su questa sua forza Di donna Su questo suo Rilievo Che dal punto di vista Della società Le donne hanno Come Come vantaggio Cioè il vantaggio Diciamo sessuale E di non Ansia da prestazione Da ogni punto di vista Lei Gli dice Dillo a tutto il mondo Che tu Il grande Johnny Depp Sei stato picchiato Da una donna Eh E questo È uno dei tanti esempi Una battuta Subito Eh Posso fare una battuta Vai Io ho sempre pensato Che lei lo menasse Perché Johnny è piccolino Io ho pure visto da vivo È minuscolo L'ha mai visto te C'ha Io ho le mani piccole È segno di una disfunzione Sessuale evidente Johnny Depp È Johnny Depp A parte Fa la cosa giusta Te l'ho già detto A parte che A parte che Mi inquieti Perché mi inquieta Questa inquieta Questa inquietatura Con ogni tanto Che alzi l'occhio De squinscio E guardi Verso di me Mi fa paura Ma perché lo sai perché Perché ho un'altra inquietatura Che tu puoi vedere da Twitch Guarda che bella Sembri tipo un mostro Sembri tipo un Come possiamo definirlo Nature Nature Non è male No Tu ti vedi così Ma guarda su Twitch E mo l'ho chiuso Perché mi avevi detto Ah ok No 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 Ah no su Twitch Su Twitch c'hai Sembri tipo Shrek Bello Non è male Bellissimo 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 Va bene vai vai Ho sempre pensato Che lo menasse lui Perché lei è una stanga E gli dà le stecche proprio Cioè si vede Che lui è minuscolo E Amber lo mena Cioè proprio Gli dà le pizze Sì ho capito Però te ripeto Allora Davide Non voglio farlo spiritoso Non eludo la tua domanda Io sui casi singoli Amico mio Sono d'accordo con te Abbiamo Ho introdotto la cosa Dicendoti che mi dispiace molto No ma in realtà Non è un caso singolo E questo è il punto Io ti sto facendo Un discorso più generale Io ti sto dicendo Che loro vogliono Cambiare i contratti No Che quel caso singolo In realtà È emblematico Di Un altro Cioè È emblematico Della condizione Dell'uomo In determinate situazioni Ok E il mio dubbio è questo Se continuiamo Ad accettare Ritoriche Come quella Supponanschi Esco dalla sala Perché è una merda E sopratore Eccetera Gli uomini Sono tutti così Mi tu Eccetera Che ha portato sicuramente Allo scoperto Personaggi terribili Come Weistin Sicuramente si deve fare tanto Per l'inclusione Delle donne Dei neri Di chi vuoi tu Però purtroppo Questa mentalità Sta generando Francesco mio Dei mostri E se noi Non ci opponiamo Perlomeno a questi mostri Per me C'è il rischio Di una deriva Ci sono persone Ci sono persone Che sposano Questa mentalità Neo-feminista Che dicono Delle cose Abberranti Dicono delle cose Abberranti Ti faccio un esempio Senza citare la persona Perché Ne ho parlato ieri Live Una ragazza Che parla Di queste tematiche Qui E adesso Si mette A sindacare Anche sul Complimento Cioè Lei fa un esempio Un ragazzo Mi ha scritto Che ho delle belle labbra E io mi sono sentita Terribilmente Offesa Cioè Arriviamo Veramente Ad Orwell Quando in realtà Poi Non c'è lo stesso Trattamento Verso gli uomini Perché lei stessa Ieri Ha pubblicato Ieri Insomma qualche giorno fa Ha pubblicato un video Dove si lavava le mani Per il discorso Del coronavirus Scrivendo sotto Sfregati le mani Come se Se avessi Jason Momoa Una cosa del genere Tra di esse Questo è Il dunque Il succo Quindi io non sto dicendo Che alcune battaglie Non siano legittime Sì ma come c'è lei Ci sono altre Sì ok Ma come c'è questa signora Che è discutibile Ci sono altre donne Che invece Stanno sfruttando Il MeToo Per cambiare i contratti No mi dispiace Ragazzi E io Da quel punto di vista Posso essere d'accordo Ma quello è il punto di vista Io cerco di avere Una prospettiva Storica Davide Cerco di guardarlo Un po' più Larga Come cosa No Cioè Che cosa sta succedendo Vogliono usare questa cosa Per cambiare i contratti Magari È una cosa che Guarda È una cosa che Cioè Patty Jenkins Ha dovuto lottare Per avere Un adeguamento Contrattuale Per il contratto Per il contratto Di Wonder Woman 2 E se ha sfruttato Il movimento MeToo Per ottenere questo È politica Ma quello fa bene No questo Ma questa è la questione Davide La questione è questa Per me è Per me la questione è questa Ho capito Però tu Ho capito Però se tu vuoi Raggiungere un fine Come può essere Quello che dici tu Il contratto Al pari di un uomo Ok Cioè Fino a quanto Fino a quanto Possiamo tollerare Tollerare Alcune Azioni Sbagliate Fino a quando Il fine giustifica i mezzi Fino a che Fino a che Non diventa A sua volta Prevaricazione Mi sembra Ma guarda che il passo è breve Francesco mio Davide È la storia Tu sei convinto forse Perché una volta Ottenuti determinati privilegi Da parte delle donne Loro non ne abuseranno Io invece Non sono d'accordo Perché penso Che siamo tutti Esseri umani A difenza tua E di Sorrentino Le amo E quindi Le amo anche io Ma penso che sì Le amo in quanto Le amo e le rispetto Proprio perché Non le metto Su un piedistallo Le metto al pari Di un uomo Per me Non c'è Di spazio Davide È la storia dell'umanità Allora Io faccio tutto Sto excursus Ridicolo Quando A cena Parliamo di questa cosa Con gli amici E dico Ma scusami Ma se i cristiani Erano perseguitati Dai pagani Poi non è che E poi sono diventati Loro maggioranza Non è che poi Se non c'era Una brava persona Cioè non è che erano Tutte brave persone Idem Ho fatto il riferimento Agli afroamericani Nel momento in cui Gli afroamericani Tanto che ci hanno fatto Anche film Hanno scritto libri No Sulla Come posso dire Sulla furbizia Dello sfruttamento Del vittimismo E questo è molto interessante Il politicamente scorretto A noi piace Perché è democratico E ci fa pensare Ed è esattamente Quello che stai dicendo te Davide Io sono d'accordo Ovviamente Con te Però ti dico Che Impuntarsi Su qualcosa Di sgradevole Che può accadere In relazione al MeToo E beh Io lo trovo Sbagliato Io non sono d'accordo Perché Invece Secondo me È naturale Che accadesse È naturale Che accadesse Non su qualcosa Cioè No Io non sono d'accordo Cioè bisogna invece Assolutamente Sottolineare Gli errori Sì ma non impuntarsi Non dire Non dire che la cosa Non dire che la cosa Quasi Non ha senso O Può essere Drammaticamente pericolosa Diventerà A parte che mi sembra Ha senso Ha senso E può essere Drammaticamente pericoloso No Eh questa è Kart Rustle in Grindhouse Ripeto Te Sorrentino Siete d'accordo Una delle cose più belle Di Grindhouse È Il maschietto stronzo Che prevarica Che uccide Che ti porta in macchina Che ti fa schiantare Che ti mette nel posto di guida Geniale Che ti mette nel posto Del passeggero Che ti Che ti ha rimorchiato Perché È Tanto simpatico Lo conosce pure Tarantino Che serve al bar Ti porta lì Ti vuole ammazzare Poi Tarantino Fa una cosa magnifica Che è solo uno Che ama realmente le donne Come lui E lo dimostra Che cosa fa Nel momento in cui Lo cominciano a menare Te lo ricordi Comincia a piagnucolare Come no Piagnucola Allora non fate come Kurt Russell Le abbiamo Prevaricate per secoli Sì però Per secoli Ho capito Francesco E queste si rincazzano adesso Sì ma non possiamo Non cominciamo a piagnucolare Siamo d'accordo Schiena dritta Schiena dritta Cerchiamo di comportarci bene Poi nel momento in cui Ci vengono a menare Davide Inutilmente Ma certo che protesterei pure io Se Francesca adesso entra Io cerco di essere Abbastanza civile Con Francesca Cioè ma non ho capito Cioè io O te Dobbiamo subire i danni Del patriarcato Fatto magari Ma scusa Davide Ma senti di Francesca adesso entra Mi prendo a padellare in testa È ovvio che le dico Scusa ma perché No Però ti voglio dire Noi stiamo facendo Un discorso Ma io capisco la reazione Ma non posso Giustificarla La capisco Ma non la giustifico Posso essere d'accordo Con te su questo Però il mio discorso è politico Il punto è solo uno Ho compreso perfettamente Il tuo discorso E in parte lo condivido Però Però Secondo me Hai troppo Fiducia Nella superiorità femminile Cioè tu sei convinto Che queste battaglie Siano giuste Perché Una volta Che le donne Avranno Più posti di rilievo In determinati ambiti E sono d'accordissimo Con te ad esempio Lasciando stare al cinema Politica Economia Ci sono pochissime donne Tu sei convinto Che Se Il mondo migliorerebbe Se la donna Sostituisse L'uomo In determinati ambiti La società migliorerebbe Sono totalmente D'accordo Penso che non cambierebbe nulla Perché Io sono invece Totalmente convinto Siamo Esseri umani Ed abbiamo Gli stessi identici Difetti No Non cambia Biologicamente No E perché Te Te Tieni un bambino In grembo Ma che stai Ma che c'entra Non ti rende migliore Ma non ti rende migliore Nelle scelte Come no Biologicamente Assolutamente No Ti può rendere diverso Su certe cose No 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 Sono molto più responsabili Di noi Perché portano la vita Cosa che noi non facciamo Noi portiamo solo la morte Senti voi Da No mi piace questa cosa Siamo in disaccordo Ma io sono traumatizzato Perché Indovina da chi Eh Spai che sei È un attimo laggato Che cazzo vuol dire È che Ti sei bloccato Ah ok Io sono Traumatizzato Sei traumatizzato da Mamma Da tua mamma Ok Sì Cioè Eh Questa Meraviglia Questo splendore Questa Questa sensualità Mi ha completamente Fottuto Quindi Vedi che adesso poi Arriviamo a parlare Della critica Vai Non esiste l'oggettività No cioè io Cioè è fantastico che Qua mi dice Siamo in diretta Da 44 minuti E 10 secondi E abbiamo parlato Di tutt'altro Ma ti amo per questo No Ma tutto è cinema Ma tu Guarda poi alla fine Intanto abbiamo parlato Di cinema Il cinema è fatto anche Il cinema è fatto Di stanze del potere Il cinema è fatto Di strategie No è vero È vero Anzi Se vuoi ti dico una cosa Che mi ha fatto molto Riflettere sull'Oscar Femminile Però andiamo per gradi Io sono convinto Che siano meglio di noi E sono convinto Che Però magari hai ragione Te Davide Ma infatti io mi prendo In giro Davide E dico Qualora Si avverasse Il mio desiderio No Davide Quasi da Da fili fatta scienza No E L'hanno fatti anche Ma ci sta La città delle donne Di Fellini Sì No Anche Anche uno con Eddie Murphy È una distopia Sì No la città delle donne Non era proprio Sì Quello di Eddie Murphy Era più Qual è Qual è quello di Eddie Murphy Non mi ricordo il titolo Era più geopoliticamente largo Mentre lui Comunque la chiudeva un po' Di più su Ma sto parlando proprio Di inquadratura Lui faceva un discorso più Di società C'era anche più luce Non l'ho visto Non l'ho visto E dovessero rivelarsi Delle stronze Verrò da te Ti dirò Ah 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 C'avevi ragione Testa Farò lo stesso In tal caso Quando il mondo Si risolleverà Grazie all'Oye C'era tra l'altro Un'altra battuta Di uno stand up comedian Ma fammi capire Tu dovresti essere Migliore di me Perché non hai il pene Cioè Questo è un po' Il discorso mio Comunque Secondo me Allora O saremo morti Entrambi In termini di vecchiaia Oppure Forse tu sarei ancora vivo Ma io sarò già stato ucciso Da loro Cioè da un sicario Donna Che Ma tu non sei sessista Davide No non sono sessista Assolutamente Anzi Tu hai un ottimo Mi sembra che hai un ottimo rapporto Esatto Col mondo Col femminile Si Assolutamente si Assolutamente si Comunque Comunque Ok Vuoi che ti dica la cosa dell'Oscar Dimmi la cosa dell'Oscar Ti piacerà molto Come la cosa di Fritz Lang Che ti racconterò Che ti farà andare fuori di testa Si Che andrà a colpire Una tua passione personale Allora la cosa dell'Oscar femminile è Avete notato Se non ci avete notato Ecco a cosa serve un idraulico No però Se non l'avete notato Forse ecco a cosa serve Un critico cinematografico di merda Perché è il nostro mestiere Quello di rompervi le palle Con queste riflessioni Avete notato Che nello scontro Tra migliore attrice All'ultimo Oscar Ha vinto René Zellweiger Che ha portato Davanti ai nostri occhi Molto bene Attraverso il personaggio Di Judy Garland Un profilo femminile Tragico E prevaricato A partire dal rapporto Con Louis B. Meyer Nei flashback molto belli Dove c'è un'altra attrice Bravissima Sentiremo parlare di lei Che fa Judy Che fa René Zellweiger Quando è Judy piccola Sul set del Mago di Oz Parlando di Chiaramente pedofilia O Prevaricazione All'interno dello star system Ma all'interno del rapporto Maschio Donna Donna in quel caso Poi ci sono delle allusioni Pedofili Ovviamente Perché Louis B. Meyer Viene fatto vedere Enorme Vicino a questa bambina Le mette la mano sul petto A un certo punto Quindi insomma Il regista Avete notato Che ha vinto Questa donna Ok Dall'altra parte Chi era la grande contender Davide Di René Zellweiger Era Scarlett Johansson Che portava Una carnefice Sì Portava Una donna Che non era vittima Storia di un matrimonio Esatto Questa cosa Lo sai che Davide A un certo punto Mi è arrivata come un boomerang Ah tu dici proprio che Che non è un discorso Relativo Io dico che è molto Io dico che è molto Interessante Dal punto di vista politico Tu lo sai come la penso io Io non sono d'accordo Con tanti miei colleghi Io non penso che Il critico cinematografico Debba dire la verità Il critico cinematografico Ha solo Una funzione Di movimento Io ti butto Lì sta cosa Poi parliamone Ok Un tempo si diceva Che gli intellettuali Dovessero fare questo All'interno di una società Non mi interessa Ti dico solo che Ci hai pensato Pensiamoci Cioè Hollywood Sta accettando il Me Too Lo sta In un certo senso Appoggiando Attraverso figure chiave Come Greta Gerwig Poi c'è Adèle Enel In Francia Che tu hai citato Che si alza E va via al Cesar Quando Polanski Vince miglior regia E dice Bravola e pedofil Adèle Che è un'attrice Che io adoro Adoro Tra l'altro Lei ha anche un passato Brutto in tal senso Bravissimo Adèle Enel Che Da un punto di vista Sessuale Ha Subito Ok E Interrompo un attimo C'è Marcello Che scrive Che stronzata Quindi premiamo Per il punto di vista Del personaggio interpretato Rispetto alla performance Attoriale Qui Ci possiamo collegare Al discorso Che gli Oscar Sono anche politica Sono soprattutto Politica Sì ma Marcello Ma allora Non si può pensare Non si può essere Così netti Nella differenza Tra Io questo Veramente Mi preoccupa Cioè Ogni cosa È immersa Nella storia Nel tempo Nella società Ecco Vedi la politica Che è sempre Invece Dobbiamo sempre Fare un discorso Tecnico A me questo Mi fa venire I brividi Ma che cosa Vuol dire Un discorso Tecnico Ma vi rendete Conto Che Che cazzata È Questa È una cazzata Cioè Che cos'è Il discorso Tecnico Come porti La battuta Che cos'è Come hai La dizione Cioè Ogni cosa Ha un senso All'interno Del nostro Stare insieme Ok Quindi Io voglio dire Che Mi ha molto Colpito Questa Contraddizione Tra Una Hollywood Che Giustifica E appoggia Politicamente Il movimento Me Too E che poi Invece Premia La 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 protagonista Della Bohème Di Puccini La Traviata Con la Tisi Non so se mi spiego Perché Judy Garland È un bezzambriacone È drogata Perché Perché da piccola Le davano le pillole Cioè È proprio una vittima Anche di una Certo Di un certo Tipo di Pressione Allora Laddove Scarlett Johansson Che fa Un personaggio Straordinario In Storia Di un matrimonio È una donna Che Esce completamente Fuori Da un gioco Di rapporto Di coppia Che dal suo punto di vista Che è discutibile Cioè io Cioè io Te e Marcello Possiamo tranquillamente Dire Che Lei ha delle colpe Nel film Possiamo tranquillamente Essere d'accordo Assolutamente Ma La cosa splendida Del film di Baumbach È Che Lei È Completamente Schiacciata Dal marito Baumbach Fa un'inquadratura All'inizio Non casuale Di un ritorno A casa Dopo che lei Si è già incazzata Perché l'ha visto Riparlare Con una donna Con cui lui Lei sa che Hanno fatto l'amore Poi loro sono puritani Davide Non sono come mette Marcello Noi siamo molto più Libertini Licenziosi Capirai Per i protestanti L'idea che ti sei fatto Una scopata Cioè è una cosa Proprio Allucinante Quindi lei si arrabbia Ricordatevi l'inizio Va via Ma stiamo ancora A casa Di lui Siamo nel suo territorio Nella sua zona Infatti lei piange Quando lui Invece lui piangerà Alla fine E vi ricordate L'inquadratura bellissima Della metropolitana Quando esagererà E ricordatevi L'inquadratura Della metropolitana Adam Driver Con la sua altezza Meravigliosa Maestosa È inquadrato in piedi E Nicole Sta dall'altra parte Seduta E lui la controlla così E poi vi ricorderete Anche quell'altra cosa bella Di Nicole Che non riesce a parlare Della separazione Perché lui le dà le note Le note da regista Baumbach Lì è bravissimo Lui le dà una nota Da regista Lui è ancora il regista Lei che cosa deve fare Lei deve uscire Da quel rapporto E diventare lei regista Infatti andrà a Los Angeles E diventerà regista Però Quello che voglio dire è Hollywood dice Ok Viva il Me Too Però poi Nel momento in cui Va a premiare Queste due bellissime prove Secondo me Due prove Assolutamente Se devo essere Marcellesco In questo Due prove Dal punto di vista Tecnico Assolutamente Alla pari Per me Però che cosa Va a premiare Va a premiare La donna vittima Del maschio Della prevedicazione E non va a premiare Questa donna Che può essere anche Accusata Di essere stata Leggermente carnefice Per proprio Per fare il Contrattacco Come le spiega Laura Dern L'avvocato tosto Che lei prende Per menà Beh sì Perché in realtà Parte da lei L'attacco Esatto Parte da Tra l'altro Esatto Da lei Più Laura Dern Quindi due donne Laura Dern Fa quella Che un americano Direbbe Ignition Laura Dern Fa l'iniezione La mette in moto Mette in moto Il lato di Nicole Più violento Nicole ha bisogno Di Laura Dern Guardate che bel film Guardate che bella Sceneggia Però qui Sì Allora È interessantissima Come analisi Io non ci avevo pensato Più che altro Avevo pensato Al classico Premio Che viene dato Ad Hollywood Perché un'attrice Fa un determinato Cambiamento Anche fisico Drammatico Era un po' di anni Che René Zerweger Dova vincere l'Oscar Ok Quindi ho fatto più Questo ragionamento Tu invece la metti Proprio più in chiave Totalmente Totalmente politica No No Se ci pensi Beh oddio Se ci pensi Scarlett Johansson Rappresenta un po' Molto stemperata Amber Heard nella realtà Ha molte meno colpe Se ci pensi a molte meno colpe Amber Heard è stata più violenta Ovviamente però il parallelo Secondo me ha azzeccato E quello che ti dicevo io però Francesco È proprio questo Storia di un matrimonio Rappresenta Un qualcosa Di realistico Cioè Una coppia A prescindere Dal fatto che ci sia Un uomo e una donna Comunque sia Potrà finire male Per colpe di entrambi Ok Invece Nella visione Dammi tu Scarlett Johansson Sarebbe stata L'unica vittima No 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 Insomma Può essere una Può essere una visione Me too ma Che non mi vede Non mi vedrebbe assolutamente D'accordo È un bellissimo Però come dici tu Perché hanno premiato Quella meno borderline Da quel punto di vista Cioè hanno premiato Quella che è solo vittima E non quella che è anche Carnefice L'hai detto tu L'ho detto io Ma sono anche Abbastanza d'accordo Con Con le aggiunte Che fai te Cioè A questo ci aggiungiamo A questo ci aggiungiamo Il personaggio celebre Nicole Non è un personaggio celebre No non stiamo parlando Di Laura Derna Stiamo parlando Di Scarlett Johansson Eh Nicole No non dicevo a te fra Alla chat Che di un attimo Non dallo Se non a Laura Derna Laura Derna Per me è strameritato A prescindere No Laura Derna L'ha vinto come non protagonista No stiamo parlando Dell'attrice protagonista Dello scontro Che c'è stato Molto forte Perché ha vinto Non di tantissimi voti Sì Io sono d'accordo Con te Davide Quando aggiungi A questa mia Riflessione Che non è nemmeno Troppo una giustificazione La mia La mia era una riflessione Non era un Ha vinto per questo Tu ci aggiungi La tradizione No? Cioè Personaggio celebre Judy Garland Personaggio celebre No? E quindi Jamie Fox Che vince l'Oscar Per Ray Charles Ok La tradizione Hollywoodiana Del personaggio celebre Nicole Barber Non è un personaggio celebre È un personaggio di finzione Nicole È una Ex attrice Di successo Chiaramente ispirata A Jennifer Jason Leigh Una signora con la quale Noah Baumbach L'autore di Stato del Matrimonio Ha avuto una lunghissima Stata d'amore E Quindi E tu ci aggiungi questo Poi ci aggiungi anche Un po' la tradizione Di René Ci aggiungi il fatto Che René Zerweiger È più anziana Di Scarlett Johansson Quindi è come se Hollywood avesse detto A Scarlett Johansson Ok Guarda Aspetta Tranquilla Arriverà Il tuo momento Adesso c'è lei Che era un po' Scomparsa Che ha fatto Judy Garland Che ha fatto Judy Garland Donna Prevaricata Dal maschio schifoso E dalla cultura Del maschio schifoso Hollywoodiana Voilà Vince Vince René Zerweiger È un'analisi Giustissima Poi rispondendo anche A tutti quelli che dicono Ma Che palle Sta politica Eccetera Bisogna considerare questo Che L'Oscar È ovviamente Anche politica Perché rappresenta Non solo il cinema americano Ma Attraverso il cinema La società americana Quindi è anche un biglietto Da visita Dell'America E Anche un enorme È un enorme Arma Di guadagno Per le major Quindi Molte volte Cavalcano anche I trend Del momento Ovvio Per incassare di più Cioè io penso che L'Oscar Sia Il più grande La più grande freccia All'arco Dell'industria Hollywoodiana Perché basta mettere Dal premio Oscar Per incassare di più Quindi bisogna Comprendere questo Già Quindi quando si dice Certo Bisognerebbe premiare L'arte Quindi non dovremmo Valutare Un film A seconda del contesto Storico Quindi chi se ne fotte Se in questo momento È il mio più forte Fai vincere Scarlett Se è più brava Eccetera Poi dal punto di vista tecnico Come dicevi tu È sempre un po' Un discorso relativo Perché si parla di arte Quindi io Quando guardo l'Oscar Sono consapevole Di queste dinamiche Infatti Non valuto La bellezza artistica Di un film Attraverso l'Oscar Sì però È soggettiva No ma di quanto Quella è soggettiva Cioè ognuno Si può fare un'idea Abbiamo citato Tu hai citato Io e Annie Ha vinto miglior film Io non sopporto Gli ignoranti Soprattutto nel mio settore Perché non ce lo possiamo permettere Mentre un appassionato Ha vinto io e Annie Poi però Non ha più potuto Vincere un cazzo Ma che vuol dire Ha vinto A me quelli che Ma l'ha vinto Fintanto che Nel senso che Non si è dimostrato Contrario A certi dinamiche Qua si sta parlando dell'Oscar Apriamo l'altra parentesi Perché non sopporto Io No ma prima ancora Sono degli ignoranti Sono degli imbecilli Soprattutto Chi si occupa di cinema Perché è colpevole Perché basta andare un po' A studiare la storia E l'ha vinto Un uomo da marciapiede Miglior film Quindi l'ha vinto Il silenzio degli innocenti Quindi che cazzo State a di Non conoscete gli Oscar Non sapete niente E soprattutto Non sapete Che Hai perfettamente ragione Davide È ovviamente Come posso dire La cittadina sulla torta Dell'orientamento imperialista Dell'industria Ollywoodiana Che se tu vai a sentire Che ti piacerà Da morire Davide Lì Un'ora e quaranta De Sergio Leone Al centro sperimentale Lui C'è un passaggio In cui Parla molto bene di questo Come sai Esattamente come Matti Scorsese Io adoro Il loro imperialismo Anche in chiave Marvel Cioè È un modo Che hanno loro Di lavorare da sempre Peraltro L'Oscar È qualcosa Che conviene a tutti È lì che tu vedi Ma in generale Francesco La mentalità americana La cultura americana È sempre legata Imprescindibilmente Alla pubblicità Al commercio Non ne esci proprio Cioè L'arte È La concezione anche dell'arte È completamente diversa Dalla concezione europea Ma proprio per storia Per cultura Sì Anche se Ci sono Anche se Bisogna starci attenti Su questo Intanto le cose possono cambiare Sono sempre un po' Davide No ci sono delle eccezioni Cioè voglio dire Quest'anno Ha vinto Parasite Per carità Esatto Ogni tanto Però se ci pensi Insomma l'andazzo Nel corso della storia È quello Ma io lo capisco Cioè non lo contesto È questo che è importante Da dire Però quello che dicevo Sul discorso arte È appunto In risposta a queste persone Cioè Devi sapere cos'è l'Oscar Chiaramente Ma scusa Ma voi pensate Che i premi di addio? Cioè Io so A me mi vengono i brividi I brividi Cioè è antidemocratico Cioè ma veramente Oltre che completamente idiota Pensare che il premio Sia la luce dal cielo Dei Blues Brothers Che va a colpire No a Baumbach E arriva la verità Alla giustizia È fascista Come ragionamento Io sono preoccupatissimo Da uno che dice Una cosa del genere I premi li danno gli uomini Gli uomini Stanno insieme A chi? Alle donne Gli uomini In senso generico I premi li danno Gli esseri umani Gli esseri umani Sono animali politici Oh mio Dio Che parola Che palle No Che palle te Sei sbagliato te Se pensi che la politica Non siamo noi La politica È cittadinanza È stare insieme L'Oscar è un gruppo politico È una gilda Ok? È un club Si chiama Academy Award Non è Dio che dà i premi No? Vogliamo dare questa informazione? Ci sono alcuni addirittura Che sostengono Che Dio non esista Come me Quindi È pure vero fra che Possono esserci altri uomini Che contestano tali decisioni Da altri punti di vista Cioè Un'altra gilda Un'altra congrega Un altro agglomerato Di uomini Può tranquillamente dire Secondo me Quest'Oscar È stato dato Soprattutto per un discorso politico Non mi trovo d'accordo Perché dal punto di vista Recitativo Eccetera Poi quella Ripeto Un'interpretazione personale Sono d'accordo Quando dici che È stupido Innanzitutto pensare Che chi vota Non sia All'interno Di determinate Diciamo Diterminati ambienti Politici e sociali No? Quindi è chiaro Che ognuno vota anche Con la percezione Che ha del momento E dov'è Però allo stesso modo Secondo me Non si dovrebbe neanche dire Allora va bene tutto Perché Evviva la politica Va bene tutto La politica siamo noi Allora non va bene noi Cioè non va bene nessuno Ma la politica è anche l'opposizione L'opposizione Ad un modello politico Ipotetico imposto dall'Oscar Per dirci Sì ho capito Ma voi pensate che il Davide Donatello Sia Non lo so Luca Guadagnino Non c'ha Il potere politico Che ha Matteo Garrone Dentro L'industria del cinema Italiano Allora A mio parere Dogman Chiamami col tuo nome Non dovrebbero nemmeno Essere messi vicini Cioè Chiamami col tuo nome Sta qui A livello cinematografico Per me Cioè Vedete Il braccio proprio è fuori E Dogman sta qui Avete visto che È stato praticamente umiliato È stato distrutto In termini sportivi Se vogliamo citare Sogni d'oro Mughini Sogni d'oro È stata una catastrofe Per Luca Guadagnino Lo scontro Tra Con Dogman Perché Perché Guadagnino Non ha il potere politico Non ha Non ha Amici Non ha persone Vicine a lui Che possono votare All'interno del Davide Ma su questo Siamo d'accordo Ma il mio discorso Ti ripeto Che non è Relativo al premio in sé E alle decisioni In tutte le dinamiche umane Subentrano I poteri Ok Ma non intesi come poteri forti Cioè Il potere Che una persona Ha su un altro Ma anche a livello Questi che parlano Della verità Della giustizia No 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 Ma anche a livello Di semplice status Cioè È normale Io all'interno di un contesto Posso avere più potere Di un altro Per vari motivi E tu uguale È normalissimo Esatto Davide Ciò che ti dico Però Fra È che Uno Non deve negare L'esistenza di questo Cioè Essere ciechi Di fronte all'esistenza Della politica E del potere In determinati contesti Come premi È stupido Ma secondo me È anche sbagliato Accettare Tutto Senza possibilità Di replica Per esempio Tu cosa hai detto Adesso Hai detto Per me Dogman sta qua Chiamami col tuo nome Sta là Quindi accetti La decisione Perché sai che è politica Però puoi contestarla Perché tu stesso Hai fatto una disparità Di valore Artistico Individuale Per esempio Io non sto d'accordo In questa enorme disparità Secondo me No 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 Secondo me Chiamami col tuo nome È un capolavoro Però secondo me Anche Dogman È un grandissimo film Non vedo questa Enorme disparità Cioè Cioè Penso che sia migliore Il film di Guadagnino Però Anche tu hai fatto Una proporzione Soggettiva Certo Certo Ovvio Ovvio La cosa bella di noi Ragazzi È che Ci sono le guerre È che Possiamo modificare le cose Tu pensa a Martin Scorsese Davide Pensate a Martin Scorsese A quanto ha sofferto Lo diceva Spike Clean no A quanto ha sofferto Perché non aveva mai vinto l'Oscar Esatto Davide Tu pensa che Fronte politico E come l'ha vinto poi Facendo il remake Di un film asiatico Sì però dai Non fa Non fa lo spiritoso Perché dopo che Dopo che L'ho massacrato Per la posizione Abberrante Volgare E disgustosa Sulla Marvel In realtà poi Lo abbraccio Perché lo amo No Ed ero felice Quindi noi dobbiamo essere felici Dai Puoi fare tutte le battute che vuoi Però Quello è stato proprio Un risarcimento Per The Departed Ma tu pensa Davide Non è una battuta E si ricollega al discorso Che ti facevo prima Sulla politica Ollywoodiana Non è un caso Che lui abbia vinto Che lui abbia vinto Davide Alle persone Come ti stavo dicendo Cioè Dei membri Eventualmente nuovi Che entrano nell'Academy Dei pensieri Che cambiano Tu pensa al povero Tarantino Cioè noi ci possiamo divertire Molto a parlare dell'Oscar Perché nel momento in cui Tarantino arriva Nello scenario Hollywoodiano Può arrivare solo A miglior sceneggiatura Infatti che cosa vince Pulp Fiction Miglior sceneggiatura Immaginare nel 94 Quel capolavoro immenso Che oggi Oggi vincerebbe Miglior film Secondo me Ma nel 94 no Ecco perché Mi piace studiare Dobbiamo studiare Perché Guardate che l'Oscar È cambiato Ma voi Ma voi pensate Che i fratelli Coen Avrebbero mai potuto Vincere l'Oscar Non è un paese Che vecchio Esatto Davide Che film Mamma mia Che film E poi quell'altro C'era pure il petroliere Se non sbaglio Certo Che è annata Lui ancora Non ce l'ha fatta E chissà se ce la farà mai Visto che poi Thomas Anderson Lavora con grande fatica E sempre più Iato temporale Tra un film e l'altro Però Anche Tarantino Cioè Cambiano le cose No Scorsese Evidentemente Non aveva dentro l'Academy Proprio non aveva uno zoccolo Davide Evidentemente Col passato del tempo Davide mio Arriviamo al 2006 No Quando lo vince lui nel 2007 Evidentemente Nel 2007 Davide Forse un po' di senso di colpa Forse un po' Di anni che sono passati Gli hanno dato l'Oscar Quindi tu lo fai Molto su Che cos'è The Departed Io lo faccio più E secondo me Penso di aver forse Più ragione io Lo faccio più un discorso Su Scorsese È arrivato All'età che è arrivata Sono arrivati Tarantiniani All'Academy È arrivato anche Tarantino Che è un figlio di Scorsese In un certo senso Nel 94 Siamo arrivati al 2007 Non è più il tempo Di taxi driver Dove era una specie di Era trattato da questi Come uno Pericoloso Perché guardate che Martin Scorsese Era considerato Quasi un Un sovversivo All'inizio Ci ha messo un po' di tempo Poverino E qua Rientriamo anche Nella loro cultura Che ci piace tanto A me piace tanto Di questa loro Che noi italiani Abbiamo meno Davide Di questa loro voglia Di vincere il premione Di questa loro voglia David Lynch Era felice Era felice Però Francesco Poi ci stanno Ci stanno prendendo In giro in chat Perché diciamo Davide e Fra Davide e Fra Lo ripetiamo È un po' È un bromance Come dicono i giovani Un bromance Esatto Bro Sì però Ripeto Io lo comprendo Scorsese Cioè Ha vissuto in quella cultura È chiaro Cioè È ovvio che per lui Sia importantissimo È un discorso più patriottico Nel senso che Anche Anche Certo Che il tuo paese Riconosce il lavoro Che hai fatto Per il cinema Ma io sono D'accordo Ma ci mancherebbe Altro Guarda Però Ti ripeto Guarda un Woody Allen Che è americano Lo stavo dicendo io Visto che tu mi Stai molto stimolando A trovare sempre Ovviamente I momenti di dialettica Io ti dico Che solamente due Due Nella storia Del cinema americano Due Hanno snobbato Clamorosamente Gli Academy Award E E si chiamavano Uno è vivo E uno è morto Si chiamano Woody Allen e Stanley Kubrick Adesso Ho citato Due grandissimi Cineasti Però Allo stesso tempo Voglio dire Ma allora Robert Holtman Invece era un coglione Se piangeva Quando gli avevano dato l'osca Assolutamente No ma Secondo me Non è Non è che si paluta Quello Da quello Insomma La grandezza Perché quando sento Parlare degli oscar Soprattutto i giovani cinefili No no ma infatti direi Usciamo un attimo Da questa cosa Però Ti voglio fare una domanda Visto che mi hai citato Scorsese Ho visto la tua recensione Ma Magari hai cambiato idea Oppure Insomma Chi ci guarda Non l'ha vista Cosa ne pensi Dell'ultimo film di Scorsese Di Irishman Non mi piace Non mi piace No non mi piace Non mi piace Non l'ho visto due volte La seconda Già la prima Stesso discorso mio Cioè l'ho visto la prima volta Ho detto Beh bel film Per carità Scorsese L'ho rivisto poi Non è Non mi piace Non mi piace È un film molto autoindulgente In questo Netflix È come se gli avesse permesso Sul finale Proprio è di da scarico No non mi piace Non mi piace Non mi piace Adesso dirò una cosa Che si collega A tutta la prima parte Di questo incontro Mi sarebbe molto piaciuto Il ribaltamento di prospettiva Cassavetes Avrebbe fatto La seconda parte Tutta vista dal punto di vista Della figlia Lì mi avrebbe preso Anche uno pseudo femminista Ipocrita come me Davide L'ha mi avrebbe Completamente conquistato Se invece Non mi basta Quella scena sul divano Del campo contro campo Mi fa schifo Anche com'è composta Esatto Il punto di vista femminile Ma io ho cercato In tutti i modi Sì sì che è strozzata Sì 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 Quello sembra Sembra quasi autobiografico Pensa che bello Che sarebbe stato il film Davide Composto proprio A due punti di vista diversi Cioè nella seconda parte Tu vedevi Frank Dal punto di vista Della figlia Quella cosa che avevi intuito Con tutti questi sguardi Di riprovazione Che lui monta Ta 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 Bambina Prima bambina Poi Adolescente Poi La Paquin Anna Paquin Con cui chiude E poi Il dialogo Invece citavamo Sul divano E con la sorella Le due figlie femmine Che crescono Col gangster Maschio Hanno paura di lui E sarebbe stato Molto bello Io sono d'accordo Con te Allora A me il film In generale è piaciuto Perché comunque Un film Di tre ore e passa Che riesce Comunque ad interessarti A mantenere l'attenzione Allora Nonostante non succeda Chissà che Insomma Per me non può essere Un brutto film Però Da un punto di vista Dell'evoluzione del personaggio Dai Anche si Come dicevi tu Da la chiave femminile Veramente Patetica Quella scena Dove cerca di giustificare Il personaggio Il protagonista Poi non so Se sia anche un po' Autobiografico In quel punto Boh Non so Però Sì Cioè sul finale Mi aspettavo Una qualche sorpresa Invece no Cioè si conclude Come era iniziato Fondamentalmente Un film stolido Cioè Un film Autoindulgente Non cambia mai Punto di vista Il protagonista È sempre tutto Un pezzo Pure alla fine Poi ripeto È un film Che tra un anno Nessuno se lo ricorderà Questo è probabile Però super Gio Pesci Super Gio Pesci Però non mi aspetto Da questo calibro Di artisti Non mi aspetto Un qualcosa Di così Moscio E di così Già visto E poi Non sopporto Non sopporto Questa Giustificazione artistica Dell'epopea Gangsteristica Come qualcosa Di Enorme Perché poi Appunto Va a fare La polemica Contro la Marvel Nel momento in cui Mi fai sto filmetto Ma sei proprio matto Ma sei proprio matto Quando quelli Con Infinity War Hanno parlato Di sovrappopolazione Che è un tema Un po' più Secondo me Contemporaneo Io su questo Sul discorso Non tanto Marvel Ma su alcuni film Specifici Non sto d'accordo Con te Cioè a me Infinity War Non mi è piaciuto Proprio per niente Secondo me lì Allora capisco Il tuo punto di vista Perché dici Intriso di politica Ha degli spunti interessanti Ma sono troppo labili Per me Cioè La presunta Profondità Accennata Anzi la presunta Profondità È in realtà Un accenno Di spunti politici E sociali Interessanti In quel film E in tutti i film Della Marvel In generale Cioè Secondo me fai troppo Un lavoro di Sovralettura Sui film Della Marvel Poi dal punto di vista Commerciale È incontestabile Perché hanno creato Un qualcosa Che ha stravolto tutto Però io parlo Anche di dinamiche Di personaggi Che può essere Anche non politico Cioè Funzionano molto meglio I rapporti Tra le persone Funzionano molto meglio Non lo so La cosa che mi Mi dà fastidio La cosa che mi dà Troppo fastidio È l'assenza Di sessualità È vero È per tutti Che siete d'accordo Con me su questo Ho capito Ma ogni tanto Possiamo pure Ma sono asettici 20 film In cui ci sono Tantissimi corpi Meravigliosi Maschili e femminili E il più carnale Sembra Visione Perché è rosso? No Perché è l'unico Che veramente Vuole scopasse La strega Mi piace moltissimo Questa visione Mandrilla Di visione Questa visione Mandrilla Di visione Quindi hai visto Desiderio È lui Sì Compagno Marra Posso Posso invitarti Ogni tanto A soprassedere Te lo dico io Che so Malato come te Di erotismo Di eros Lo vedo ovunque In questo caso Possiamo anche cercare Di Non metterlo Al centro Della nostra ricerca Perché poi Sono d'accordo con te Non lo troveremo Particolarmente E Massimo Anche Ti richiamo all'ordine Quando forse sarai Un po' più vecchio Come me Riuscirai a essere Meno porco Esatto Fai sull'attente Ti richiamo all'ordine Marra Però a me spaventa Possiamo soprassedere Ti dico un'altra cosa Un'altra Delle mie grandissime paure Non legata al cinema in sé Ma al cinema specchio Della società E ne ho parlato spesso Anche negli anni Sui podcast Nei video È La Perdita Della carnalità Eh ma lo sai che ne abbiamo parlato Come possiamo dire La Come la Come il digitale Stia Mangiando Questa Questi impulsi No E il cinema è specchio di ciò Cioè I film Dall'idea Specie ecco Questi che devono arrivare Ad un grandissimo pubblico Come quelli della Marvel Ma non solo Non hanno più Nessun elemento Che possa Farti anche un po' rapare Un po' eccitare Un po' pensare Fare dei paralleli Con la tua vita Anche sessuale No E secondo me Questa cosa è fondamentale Cioè io da ragazzino Quando vedevo Determinati film Anche cartoni animati Anche film di animazione Percepivo Questi istinti E secondo me Nella crescita di un ragazzo Sono fondamentali Non tanto a me A me che me ne frega Però Per un ragazzo di oggi Vedere Tutti i film Dove sembrano Veramente Dei robot Dei replicanti Senza emozioni Non so quanto Quanto possa essere Costruttivo E non è solo poi Un discorso vessuale Secondo me Ma è anche un discorso In relazione al bene Al male Ti invito a fare una riflessione Su questo Io l'ho visto Nei film di animazione E ripeto Istendo a Marvel Perché La fascia di pubblico Che prende È anche quella Ok Perché La Disney Di un tempo Quando c'era ancora Walt Disney Quindi diciamo Fino agli aristocatti Anche dopo Per un breve periodo Aveva in sé L'elemento Della vera paura E Negli ultimi anni Non c'è più Un vero cattivo Né nella Marvel Né nei film Disney Non è un caso Che siano la stessa roba Pensaci bene Il cattivo di Come si chiama Quel film Biomax Biomax Quel film Della Disney Hai capito qual è? Biomax Come si chiama? Quello del Di quella Dell'amico Del ragazzino Biomax Il film di animazione Disney Big Heroes X Ah Big Heroes X Scusate Scusate Ok un lapsus Eh Big Heroes X Che è un film D'animazione C'è un cattivo Non cattivo E sono tutti così Uguale nella Marvel Non c'è un vero Pericolo Se ci pensi Cioè io non Ai tempi Quando ero piccolo Mi cagavo sotto Quando guardavo La strega di Biancaneve Quando guardavo Mangiafuoco Ma tu te la ricordi Francesco La scena Della trasformazione In asino Eh Terry Gilliam Ha sempre parlato Di Pinocchio Come un horror È un horror Cioè la scena Con l'ombra Le gabbie Facevano molto Le gabbie Ma pure la balena Eh Ma pure la balena Io sta cosa Non la vedo più E secondo me È un problema Perché Il ragazzino Se tu Cioè se tu al ragazzino Mostri un mondo Senza sesso Senza morte Senza brutture Quel ragazzino Crescerà In un mondo Fasullo E quando Si troverà Dinanzi Sesso Morte E Paura Non sarà preparato Io andavo a letto Con la paura Di quella cazzo di strega Che va con la barchetta Con gli scheletri E E non solo Cioè potrei cinarne Duemila di film del genere Anche Nightmare Before Christmas Vedi in quegli anni E io andavo a letto Con gli incubi Sì Però mi sono servite Quelle cose Sì Eh Non sono d'accordo Perché Tu stai parlando di te Che sei diventato Parlo di me Eh Sei diventato vecchio Sei vecchio La dovete finire Di parlare ancora Dei bambini Dal vostro punto di vista Io sono stato Con i bambini Eh No Non mi fa intendere Sono stato con i bambini A vedere Avengers Infinity War Che è un capolavoro Che è un capolavoro Eh Dove ho visto Stupore Paura Eccitazione Quindi Davide Io posso essere d'accordo Con te Perché so pure Più vecchio di te Sul fronte del Che non trovo Quelle cose Che non trovi te Ma che ne sai Davide Di un bambino Di dieci anni Ma ci hai parlato Io ci ho parlato Io ci parlo Quando li becco Perché a differenza vostra Ho rispetto Nei confronti degli spettatori E non mi prendo il diritto Di avere il loro punto di vista Cioè non prendo il diritto Di dire Ho 45 Io non ho preso il loro punto di vista Io ho preso Ho capito Ma tu No Tu dici che non c'è sesso Che cazzo ne sai Beh Ad esserci non c'è No Dal tuo punto di vista Davide E dov'è il sesso Nei film della Marvel Scusami Suggerito anche No Ma se Ma tu che ne sai Che un bambino Di undici anni Non si è E tu che ci hai parlato In quale momento In quale momento Esiste Una minima Attenzione a quel lato Io ho parlato Con dei bambini Che mi hanno detto Che Si sono Hanno preso delle scuffie Esattamente come facevamo noi Da ragazzini O si sono terrorizzati Nei confronti di personaggi Che tu trovi Asettici Anestetici Tipo? Beh La La zia May Nuova di Marisa Tomei Negli Spider-Man Con Tom Holland Ti assicuro Che sta turbando Sessualmente alcuni Beh no Perché lei Ha una fregna atomica Ma non ha Beh vabbè Ho capito Lei è Marisa Tomei Ci piace Però Ci saranno le eccezioni Per carità Però quanto si è vista 30 secondi Ma che vuol dire Tu pensi che Io ho visto Io ho persone Che tremano ancora Ragazzini Che tremano ancora Quando pensano a Thanos Cioè Che è un cattivo Straordinario Secondo me Che poi Si sia fatto Un discorso diverso Che sia accaduto Qualche cosa Su una declinazione Di cattivo Meno Da opera Ti piace questa espressione Meno 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 da opera Intendo Meno Teatrale Meno È un discorso Davide Che tu sai Che si sta facendo Da anni Partendo da Breaking Bad E andando Anche dentro All'animazione E questo è qualcosa Che noi dobbiamo studiare È qualcosa Su cui si scriveranno Dei libri Su capire Che come sai È stato un personaggio Che è stato un personaggio Che ha messo molto In difficoltà Il secolo del novecento Uscendo dalla filosofia Di Nietzsche Che dice agli Avengers C'è il problema Della sovrappopolazione C'è il problema Delle risorse energetiche Voi non volete fare nulla? Voi piccole formiche Non volete fare nulla? Ci penso io Ci penso io A prendermi questa responsabilità Qui secondo me È il discorso Che ti facevo prima Quando vai No non è una sovralettura È una lettura Un po' secondo me sì No È la storia Te sei distratto Sei uscito Sei andato a vedere Irishman In realtà Se te vedi Forse hai fatto come Scorsese No? Che parla male E poi non ha visto i film O fai come tanti altri Che parlano male Io non ne parlo male Io non ti dico che siano brutti Vuoi che mi rivedo Vuoi che faccio i vittimini Io me li studio A differenza vostra Li vedo A differenza vostra Li capisco E a differenza vostra Me li rivedo E li studio E li prendo sul secolo Poi vado addirittura A parlare Bisogna stare attenti Alle decodifiche abberranti Vabbè Mò mi citi il mio maestro Umberto Eco Io mi vengo L'abbracciare Siamo attenti Perché con questo discorso I sofisti Potrebbero essere infiniti Cioè io ti posso prendere Il film più vuoto E te lo faccio diventare Shakespeare Attenzione Questo lo facevano i sofisti Questa cosa nasce in Grecia Attenzione A far diventare Nice Infinity War Attenzione Secondo me Io ho scritto un saggio Su questo Però Davide Questo è il senso del gioco Poi Non so Vedi quanto è bello giocare Quanto è bello litigare E quanto è brutto Quanto è brutta la cinefilia social Del Leggo questi cinefili giovani Che mi fanno schifo Che si insultano Si insultano Invece Invece Quello è arte Quello non è arte Scorsese Scorsese ha fatto un errore Scorsese ha fatto un errore politico Clamoroso Oltre che Che ha riportato il dibattito Sul cinema All'età della pietra Quindi Cioè dopo Truffo Godard Grazie Martin Scorsese Per essere tornati al medioevo Cioè è una cosa Abberrante Quella che ha fatto Scorsese È abberrante Dal punto di vista intellettuale Dal punto di vista culturale È abberrante Dopo gli angeli Truffo Godard Che ci hanno insegnato Ad amare E a trovare l'arte Decodifica Abberrante o no? Perché questo è il senso del gioco Il senso del gioco È questo Davide Hai perfettamente ragione Nel momento in cui Io ti dico Che secondo me Hai torto Cioè nessuno ha la verità Ma infatti T'ho invitato per questo Ed ho piacere Costante Discutere con te Per questo Lo facciamo Col sorriso Anche se poi Siamo completamente in disaccordo E vedo ancora pure La chat La chat pure Che continua a dire Allora indepensante Marra indepensante No ma c'ha ragione frusciante Ma questo Ma quell'altro Cioè le classiche Dietribe un po' del cazzo E È un discorso Che avviene spesso Anche qui in live Perché noi ci troviamo Con ospiti E discutiamo Di temi più disparati No? E sia qua Che su youtube Poi sotto c'è Eh questo è un coglione Quest'altro c'ha ragione Cioè Secondo me Non Non ha molto senso Schierarsi Cioè Aggiungete magari Al discorso No? Ma Se uno argomenta Dare del depensante A quella persona Del coglione Non ha molto senso A meno che Non lo si faccia In modo ironico E va bene Ma va bene così Io ce l'ho più Io non ce l'ho Io diciamo Io penso che sia molto bello Parlare di cinema Litigare di cinema Senza Dire Senza Offendersi Senza Con senso Dell'umorismo Io detesto Chi non ha senso Dell'umorismo Detesto Chi non riesce A A prendersi in giro E Detesto Francamente Chi ha trasformato La critica Cinematografica In qualcosa Da santa inquisizione Tutti vestiti De nero Con questa tensione Con questa pressione Mi fate No no Lo dico Mi fate schifo Io non Vengo da lì Io vengo da Il cinema per me È gioia È rosso Come Marra Insegna È senso Dell'umorismo Siamo partiti Con Woody Allen È qualcosa Che andavo a vedere Con mia madre Che era questa donna Bellissima Che mi ha Completamente fottuto E traviato E sono diventato Un femminista D'accatto E accattone proprio Nel senso Che vada ad accattare Qualsiasi cosa Dalle donne Perché Sono diventato Sto coglione Che Ma io ho mia moglie Che mi prende in giro Costantemente Su questa mia Amore sconfinato E Io vengo da lì Io non Non mi avrete mai Non mi avrete mai Non sarò mai Come voi Vestiti di nero Sembrate il gruppo Mega di Animal House Sembrate il gruppo Mega di Animal House Siete schifosi Fate schifo I nazi cinefili Ma questa non è la cinefilia Fate schifo Non avete capito Niente Di che cos'è il cinema Niente Bravo Discorso da incorniciare Secondo me Anche perché poi Questa discussione Mantiene vivo il cinema Ma certo È quello che lo fa Andare avanti No? Ma certo Ognuno di noi Con i nostri traumi Sta lì Lo vede Ripensa Alla sua vita Non dice la verità Non dice cose giuste E cose sbagliate Non fidatevi Di chi vi dice Cose giuste E cose sbagliate Ma porca vacca Ognuno di noi Ci vede qualcosa Ognuno di noi È figlio della sua Formazione culturale No Davide È la sua formazione politica Scusate se torno a usare Questo termine Così scabroso È della sua formazione familiare Sessuale Ognuno di noi Poi quando vede un film Ci vede qualche cosa Di sì Qualche cosa di no E via così Fra c'è un commento bellissimo Usa Davide come intercalare Gli piace la Marvel Vuole scoparsi la madre Mi piace Questo tipo Eh sì Rapporto tipico con mamma Mamma Adesso se dico una cosa Questo qua va fuori di testa Tra l'altro qui C'è un altro commento Che non ha capito nulla Del tuo discorso Ah 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 vestiti di nero Ma che idea c'ha questo Hai perso un sacco di punti Zio Non siamo così Dai Abbiamo Abbiamo fiducia Della nuova generazione Ma Francesco Non stava parlando Della nuova generazione Stava parlando Di chi si approccia Così al cinema Può avere anche 70 anni O può essere Il mio coetaneo Cioè non stava parlando Anzi Ha detto Ha detto il contrario prima Ha detto Parlo costantemente Ho rispetto dei giovani Che guardano la Marvel Oh ma io li adoro I giovani Io voglio stare solo con loro Odio quelli della meglio gioventù Odio quelli della mia generazione Voglio stare solo con i giovani Per cercare in tutti i modi Di rompergli i coglioni E cercare in tutti i modi Di convincerli Che in futuro Non fare gig 2 Sia un errore ideologico Storico e culturale Che è amoroso Voglio in tutti i modi Cercare di influenzare Questi meravigliosi artisti Di domani Che mi faranno gig 2 Quanto è triste Che non ci sia stato gig 2 Comunque io Vorrei approfondire pure un po' Il discorso scorsese E polemica Che se non ero Poi si è raggiunto anche I gnarri tu A quella polemica lì Sulla Marvel Allora Non solo i gnarri tu Se ne sono aggiunti tutti Sembrava come Il povero Woody Allen Quando Timothee Chalamet Ha cominciato Poi anche te hai detto Marra mi pare Pure io l'ho detto Che mi sono distratto Che non lavorerò mai più Con Woody Allen Cioè c'è stata Ti ricordi Tutta quella Ti dico la mia Ti dico la mia su questo Per me Hanno sparato Una grande stronzata Per il semplice fatto Che Si sono comportati Dai cinefili nazisti Che citavi prima Poi Uno può dire Beh Scorsese se lo può permettere Ok Però questo non toglie il fatto Che secondo me Hanno generalizzato Un discorso Facciamo un esempio Ignarrito Parla male di cinecomics Ma Berman E ancor di più Revenant Cosa sono? Cioè De Revenant Io vedo il supereroe Di Caprio Vedo il super cattivo Tomardi Vedo Le varie insidie Cioè Non mi sembra molto diverso Dal punto di vista Della profondità Di un qualsiasi film Marvel No è meno profondo È molto meno profondo Cioè Mi sembra Con la stessa profondità Se non Però Con Un po' La presunzione Del cinefilo Col cazzo lungo Che ti fa Le carrellate Ti fa le inquadrature Della pioggia Che io trovo Orribile Tra l'altro Copia Tarkovsky Si però Male C'è proprio Artificioso Quella cosa Che sembra Un videogioco Un videogioco Quando arrivano le frecce Inquadra poi Ognuno Mamma E alla fine Il sunto del film Qual è? Una vendetta Poi gli indiani Sono buoni Cioè Ok Quindi Detto da lui Non Non mi piace Cioè Non mi piace Perché non c'ha Il mantello You Glass Bravo Davide Ti sento Pugliace Per la cosa Siamo d'accordo No Ma non solo su una Ma io sono Sì Allora Io penso che sia Aberrante Questa E' veramente Di basso livello Questa roba qua Però Se vuoi Ti dico Ti spoiler In un passaggio Questa bella Lezione di Leone Al centro sperimentale Davide Perché Lui fa la stessa cosa Di Scorsese Fa la stessa cosa Aberrante Di Scorsese Al contrario E quindi Da polinista Mi ha divertito Da morire Ti farà molto ridere Lo sai che dice Lui a un certo punto Dice che il neorealismo Non è cinema Sì lo so L'ho visto Con queste persone E' esilarante Cioè Abbiamo avuto Abbiamo avuto L'idolo americano Che ha detto La cosa aberrante Che Marvel Non è cinema Puoi dire Non mi piacciono Quei film Ma dire che non è cinema E' aberrante E ovviamente All'effetto Salvini Tutti i fascistelli Scorsesiani Visto che il Dio Ha detto questa cosa Arrivano E abbassano Ancora di più Il dibattito E la dialettica Leone Leone fa la stessa cosa La stessa cosa Volgare Ignorante Offensiva Nei confronti Del neorealismo Che era Che era Assolutamente Cinema Guarda Davide Mi ha fatto morire Dalle risate Una risata amara Perché poi Ovviamente Torniamo sempre A bomba Sempre a bomba Perché Chi Non voglio dire Giovani Con chi Vede sempre Queste cose Come Lover Hater Sei al tappeto Hai vinto Che è una cosa Sì l'hanno scritto L'hanno scritto Pure qua Alotta Blastato Marra D'annichilito Che poi Ripeto Noi abbiamo pure Un po' Alimentato Questo linguaggio Purtroppo Il mio intento Che ribadisco pure adesso È sempre quello Di dire Magari ragazzi Le battute Le facciamocene Divertiamoci Anche nel merito Della discussione Ma una volta conclusa Basta Cioè Si finisce lì Vabbè Ma soldi poracci Ripeto Se so a fasci Il problema è loro Però il problema È che Uscendo da queste dinamiche Ridicole Blastato Avvinto Annichilito Distrutto Ma a te sembra normale Da tutta vista Semiologico Tu hai citato Il mio maestro A te sembra normale Il termine Seguace Ti sembra Una cosa buona È veramente Molto pericoloso Molto pericoloso Seguace Mi ricorda Quella figura lì Quella è Un mio autoritratto Sì Che cazzo è È Josué E qui là È la vagina È Josué Però Uscendo da questa cosa Io non sono d'accordo Trovo folle Quello che ha detto Scorsese Lo trovo Antistorico Ignorante Volgare Ma amo molto Marti Scorsese Amo molto Sergio Leone Amo molto di più Sergio Leone Come regista Mi piace molto di più Sergio Leone Di Marti Scorsese Però questa cosa Che dice su un realismo È Davide È agghiacciante Il fatto è che Il fatto è sempre quello Cioè Si tende a Credere che alcuni esseri umani Siano illuminati Francesco lo fa con le donne Molti lo fanno con Francesco lo fanno con Mi Francesco lo fa con tutte Purtroppo Francesco lo fa con tutte le donne Tutte le donne Non uno Cioè proprio Un unicum C'è chi lo fa Anche con i registi Cioè Scorsese Dio Quindi se Scorsese Ha detto che è merda È merda Frusciante Dio Quindi se dice che Call me by your name È una stupida storia Tra due gay Anzi F Ma non lo dico Perché sennò ci bannano C'ha ragione Anche con me Purtroppo lo fanno Non è così Cioè Diciamo un sacco di stronzate Però l'importante È dire Quello che uno pensa E poi Voi ragionate con la vostra testa Contestateci Guardate Noi so due ore Che stiamo a discute Però penso che sia uscita Una qualche riflessione interessante Per voi No? Anche per noi Perché io comunque Ho visto un altro Punto di vista Eppure Francesco Ti manca ancora Ti manca ancora La cosa di Fritz Lang Che ti devo dire Allora facciamo così Per sedurti completamente Allora facciamo così E andare via E far l'amore La cosa divertente È che oggi L'ho detto a Francesco Andiamo avanti Con la storia del cinema Facciamo Fritz Lang Il cinema da camera Eccetera Il teatro da camera E invece abbiamo parlato Di tutt'altro Allora Fritz Lang A bomba Che c'entra in cazzo Vai E invece c'entra tutto Però C'entra tutto In un film di Fritz Lang Hollywoodiano Del 1944 Dove c'era già Joan Bennett E prima che Joan Bennett Diventasse Una delle cape streghe In suspiria di Dario Argento Nella donna del ritratto Joan Bennett È una signora Che viene rimorchiata Da un vecchio Interpretato Da Edward G. Robinson Da un vecchio professore E lei se lo porta a casa C'è questa situazione Un po' strana Di appunto Questa ragazza Quasi Anche abbastanza estroversa Sessualmente Ti dà un'idea Di promiscuità Anche se è un film del 44 Che non può troppo esagerare Da questo punto di vista Succede una cosa Che adesso Madre va fuori di testa Mentre loro stanno a casa Insieme Arriva all'improvviso Un uomo molto violento Che si chiama Frank E che comincia A schiaffeggiare la donna Davanti al professore Lui però Non è nell'armadio Come Kyle MacLachlan Ma la scena Mi fa venire un colpo Un colpo E questo si chiama Frank Arriva Appena apre la porta Comincia a dire Un sacco di cose cattive Se fosse stato un film Del 1986 Intitolato Velluto Blu Forse avrebbe usato Porca bustana Stavo vedendo Velluto Blu Cazzo Eh ti ho detto Che ti ho conquistato Mi venne un colpo Perché L'avevo visto Da ragazzino Non avevo assolutamente Associato questa cosa Stavo facendo Stavo facendo una rubrica On video Per il messaggero E E mi rivedo La donna del ritratto 1944 Di Fritz Lang Scusa ma lo cerchiamo un attimo Ci sta su YouTube Secondo me Allora Eh vabbè Adesso tu Quando vedrai quella scena Tu parla Parla Tu cammi molto Come si chiama la donna? Questo che è La donna? La donna del ritratto Del ritratto Di Lang Parla Parla John Bennett Edward G. Robinson E Arriva questo personaggio Violentissimo Di gangster Che ripeto Se voi vedete La dinamica Della scena Non potete Non pensare A Velluto Blu E non potete Non pensare Al fatto che David Lynch Ha sempre ammesso Di amare molto Il cinema Classico Americano Degli anni 40 Degli anni 50 Quindi come Immaginate Tutto può tornare E può esserci Un bellissimo collegamento Da questi film Anche perché Frank È molto Spurile È molto È l'uomo Col cappello bianco? Sì Cioè Ma è identico? Cioè lo so Ti dico una cosa Esatto Ho preso Ho preso Il film su YouTube Che dura un'ora e 40 E solo scorrendo sotto Nelle anteprime L'ho beccata subito Perché è identica La somiglianza È incredibile Lo vedi? Lo vedi? Da critico cinematografico Di merda Quale sono? Che bello Mi venne un colpo Mi venne un Questa è la bellezza Del nostro mestiere Non dire Non dire quello è meglio Blastato Noi ci divertiamo Noi non vinciamo mai Peraltro La sconfitta È sempre La base del mio mestiere È la sconfitta Perché hai visto Sempre meno film Di quelli Che avresti dovuto vedere Sei sempre Alla ricerca Di qualcosa Io detesto Chi si presenta Come perfezione E questo purtroppo Vedo che accade Anche nei critici È una cosa Schifosa Invece noi siamo Sempre mancanti Siamo sempre Refusi Siamo sempre Sbagliati Siamo sempre In cerca di qualcosa E questo però Fu un bellissimo E poi Arriviamo a un racconto Di Canterbury Così chiudiamo il cerchio Delle follie Se vuoi Come no Qua scrivono Non c'è sconfitta Nel cuore di Chilotta come Tealo È bella sta frase Ma è proprio il senso Della Ma io non capisco Esatto Cioè A me piace il cinema Io capisco Che ai fascistelli Evidentemente Non piace il cinema Io A me piace il cinema Io sono figlio del cinema Il cinema è amore Non è odio È molto semplice È questo Quindi Non riuscirò mai A essere come loro Non riuscirò mai A essere Sulla loro stessa Lunghezza d'onda Perché per me È un'altra cosa Questo non vuol dire Che posso stare a litigare Con un sorrentiniano Per tutto il giorno Con un nolaniano Per tutto il giorno Ma stimarlo Poi dopo Abbracciarlo Volergli bene Ma che Invece Ho notato In questi ultimi anni Questa cosa Davide Sembra una guerra Di religione Ma che c'è successo Posso sembrare Posso fare al pacino In insider Ma cosa ci è successo Guarda Secondo me Ma cosa ci è successo Secondo me Non è cambiato Così brutti Così E quindi si creano La vita E rispettare E rispettare Ricordare Collegare Ristudiare E poi si muore E poi si muore L'assi vuol dire Fatto nella tua Nella tua Nella tua lezione Io Mi leggevo I libri Mi leggevo I saggi Ci facevano Vedere Rivedere Guardate Che cos'è Il genio Del cinema Guardate Quest'uomo Come ha sintetizzato Il passaggio Degli anni Guardate Quest'uomo Come ha Con un'idea Guardate Che cos'è Questo cineasta Avevano ragione Nel dire gene Perché qualcuno Diceva Che il vero genio Ruba Certo Certo E Stravinsky Lo diceva E quindi Siamo tutti Cresciuti Con questo Hai mai letto Te che l'aveva Copiato Da qualcuno Recentemente Eh sì Perché forse Hai letto L'articolo mio Perché Praticamente No è uscito qualcosa Pure su Pure su Shining Che ha rubato Un sacco di cose Questo è peggio Questo è peggio Ma io però Vorrei Perché sennò Diventiamo Io lo cerco in diretto Dimmi il titolo Lo cerco Un racconto di Canterbury 1944 Vediamo se lo trovi Ti verrà un colpo Anche lì Perché Però Devo dirti Davide Ehm Perché sennò Sembro quelli che odio Questo non vuol dire Che lui è cattivo Questo non vuol dire Che lui è Non è bravo Questo non mette In discussione Il fatto che Stanley Kubrick Sia Stanley Kubrick Scusa Fra Un racconto No 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 Di che anno Di che anno Di Pasolini Di che anno 1940 1 944 Scusa che c'ho ritardo Peraltro Un film difficile Da potenza produttivo Ebbero problemi Perché stava finendo La seconda guerra mondiale Infatti si vede Un'Inghilterra Di macerie E qua torniamo Al neorealismo Si vede un'Inghilterra Di Palazzi Bombardati Dai tedeschi E' fantastico Ebbero grosse difficoltà A farlo E' questo di Portman Vero? Scusami? E' questo di Portman Vero? Eric Portman E Dennis Price No Michael Powell Ed Emeric Presby Eh no non c'è Su Youtube Ok Infatti questa è Tale E' una storia Tipo No Non me lo trovo Cantaburi Tale No non c'è Su Youtube Purtroppo Quello che ci dicevano Giustamente I nostri professori E quello che vi ha detto Anche Marra E' che C'è tutto Non solo c'è Una grande Idea visiva Un oggetto Che si trasforma In un altro oggetto Dalla stessa forma Ma C'è un regista Che usa la sintesi Ok? Cioè Sintetizza In Un frammento di secondo Il passaggio di Secoli No? Secoli e secoli Cioè Come l'essere umano E' passato Dall'osso All'astronave Che ha Lo stesso La stessa forma Ha lo stesso movimento Dell'osso Certo Esatto L'ho trovato comunque Ti ricordi più o meno Se sta all'inizio Fine Se sta all'inizio All'inizio? Sì Allora vediamo un po' È il prologo proprio È il prologo Il prologo Vediamo un po' Puoi parlare Tanto non c'è audio Da critico cinematografico Di merda Quale sono? Tristemente Devo ammettere Che non avevo mai visto Un racconto di Canterbury Questo accadde Tanti anni fa Quando stavo facendo Questa rubrica Quindi ero anche contento Per questo discorso Che faccio Della Della mancanza Del critico Il critico Non è Non è un duro Non è un fico Il critico per me È un perdente sociale Ed è un uomo afflitto E E quindi stavo Così Beandomi di questa mia ignoranza Di questo mio vuoto Felice che si potesse colmare Attraverso la visione Di questo film E E cosa succede Davide? Cavaliere medievale A cavallo Toc 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 Falco 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 Lo fa andare Lo fa volare Lo fa volare Lo trovo Lo trovo Lo trovo L'hai trovato? Sì Guarda che colpo allucinante Guarda che colpo allucinante Falco che vola Forma del falco Forma come l'osso Falco che vola Jump cut In asse Caccia Aereo Assurdo Ora ci arriva Perché stanno ancora a cavallo Eccolo E' questa Falco Ecco il falco Falco Guarda il falco che vola Sta in volo Lo guardano E diventa aereo Incredibile No non ci credo Con un montaggio in asse Geniale Cioè un Ah no Geniale Mamma mia Pazzesco eh Porta broia Adesso Adesso Visto che noi Abbiamo fatto tutto Sta cosa per insultare Un applauso Un applauso a Francesco Dalla chat Grazie No 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 Guarda che ci hai regalato Un momento Fantastico eh Io te ne sono grato Ma questo ci deve Però Sono contento di averti invitato Veramente Tanto Vabbè però Anche belluto Però anche la donna Di ritratto Belluto blu Te l'ha piaciuto Porca troia Ma per Sì Per due momenti Veramente Super Questo ci insegna Che cosa Che Si ruba Rubiamo Io posso rubare Una cosa da Davide Lui può rubare Una cosa da me Questo non Non siamo Dio Non siamo Degli esseri Superiori Anche questo Regi Non trattate Gli artisti Quello che diceva Marra poco fa Molto interessante Mi piace Una mia ossessione Non si deve Sopravvalutare Socialmente La figura Dell'artista Noi li vogliamo Bene Ci piacciono Sono la ragione Della vita Di questo coglione Che vi sta parlando Alla fine A 45 anni Superati 40 Davide Veramente Io sono molto Entrato in connessione Con questa consapevolezza Che la mia vita È legata a loro Ecco perché Gli amo Ecco perché Ho rispetto Ecco perché Più invecchio Più ho difficoltà Ad insultarli Anche quando fanno cose Che non mi piacciono Come Scorsese con la Marvel O Leone con il neuralismo Io sono figlio loro Sono i miei padri Io li voglio bene Cioè Li adoro Voglio bene riduttivo Li adoro Li venero In questo Tarantino È molto in connessione Con questo ragionamento Ce l'ha sempre detto Lo ha sempre fatto Io lo preferisco Ai cinefili di oggi Che sono violenti Che sono Volgari Che sono stronzi Che sono cattivi Che vogliono La vittoria E la sconfitta Blastato Superiore Quello sì E quello no Ma di che state a parlare Ma di che state a parlare Non avete capito un cazzo Allora fra Io direi che Con questa perla Possiamo chiudere Ti ringrazio Veramente Tanto Perché Lo dico onestamente Io sono più Un tuo estimatore Che un tuo amico E questa l'ho rubata Visto che siamo In tema di furti Da L'ho rubata Qualcuno diceva Di Darjean d'amico Son più fan Che amico Detto da Fabri Fibra Che sono un po' I poeti contemporanei Secondo me I rapper Nei esempi più alti Veramente Quindi Spero insomma Che verrai A farci compagnia In altre elezioni Tra l'altro Non so se vogliamo Fare anche Quell'annuncino Un accenno Su quella cosa No No Ok No Tocchessa apposta Tocchessa apposta Vabbè Vabbè Non te preoccupa Grazie Grazie Tornerai Da noi Ovvio È un onore Per me Ok Perfetto Alla Chat Ringraziate anche voi Francesco Voglio chiudere Dicendo Non gli di Non gli di cosa fa Alla chat Invece io Salutatelo Ma in realtà Io amo i miei hater Lo sai che io adoro I miei hater Ma ce n'ho tantissimi Guarda Sti giorni poi Si stanno Proprio a scalmana Ma è giusto così C'è pure la quarantena Stiamo tutti un po' Attesi Io pure sto A fare un po' De stronzate Perché non ce sto A capire più un cazzo Comunque Sulla chiusura Hai ragione Anche quando dici Non sopravvalutate La figura dell'artista Questo lo dico sempre Ma in generale Non pensate che Un essere umano Possa essere superiore A un altro Perché in qualche campo È Super Ok Bravissimo In un campo Non significa che sia Un grande essere umano Sia migliore di voi In tutti gli altri campi E questo lo stendo Anche a te Per il discorso Uomini e donne Sempre di esseri umani Parliamo Guarda che c'ho ragione Io Marra Guarda che ti posterò Secondo me Sarai tipo Col bastone Quando sarai vecchio Avevo ragione Marra Però ancora Non è arrivato il momento Guarda che tu scherzi Ma io ho Uno dei miei tanti difetti Guarda che è un problema Io ho una memoria Allucinante Davide Quindi ti verrò Veramente a rompe i coglioni Tu avrai ancora 20 anni Io ce ne avrò 103 come Kirk Douglas Poco prima di ispirare E ti verrò a dire Hai visto Quella donna lì Quella presidente Quella Amministratore delegato E il mondo è migliorato In realtà Il mondo sarà peggiorato E tu dirai Madonna L'ho che coglione Però me vorrai bene Perché Sarai l'unico Che mi verrà a trovare Esatto E dirai E visto che sei una persona Amabile Di cuore Dirai Francesco Avevi ragione te E facciamo una scena bellissima Tu esci Dove io dico Hai visto il mondo Come è migliorato Da quando le signore E tu uscirai Dall'ospizio E ci sarà Come della morte Dell'amore Ci sarà Niente Attorno all'ospizio Tutto sarà distrutto E ti dirai Certo che l'ho Unico Però io voglio bene Però io voglio bene Non potevo Voglio essere tuo figlio Voglio essere tuo figlio Fra E visto che non posso Esserlo carnalmente Ti prometto Qui ti giuro Che ti porterò La pappetta all'ospizio Ragazzi Saluto a tutti Ciao ragazzi Grazie ancora Fra Ci vediamo Presto Spero Ciao Ciao